Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuto, bentornato nel regno di Guzai, E-S-M-A, buona domenica. Buona domenica creatura, ti ricordo che questa serie uscirà ogni domenica alle ore 17, se questo genere di video del pomeriggio di domenica ti piace, lasciami un like e commenta il video supportandomi con qualsiasi emoji a tua scelta, non c'è bisogno che tu mi dica chissà cosa, mi basta solo un emoji a tua scelta. Grazie mille per il supporto. Siamo alla seconda puntata diciamo di questa serie di video del gioco Unpacking dove se non hai visto la prima è un gioco tranquillissimo dove apriamo pacchetti e mettiamo giù gli oggetti in un ordine che decidiamo noi. Oggi abbiamo il 2004 e ci sono gli oggetti diciamo ambientati al periodo e adesso troveremo oggetti ambientati nel 2004. Qui abbiamo un bagno e qui una cucina ma io direi di procedere già posizionando il computer sulla scrivania che in realtà è lo schermo del computer, non è proprio il computer perché manca proprio il cervello. Ecco, però vabbè, qui cosa c'è? Ah, un armadio, bene. Allora, andiamo spacchettando la scatola sopra il letto. Vediamo cosa troviamo. Allora, credo sia un poster, potrebbe essere il poster di una band, non so perché non conosco questo nome, ma intanto lo posizioniamo qua poi vediamo. Tanto si può sempre spostare, vedo che qui il muro è rovinato, quindi forse andava bene, no, andrebbe un poster un po' più grande che possa coprire questa macchia, o la vedo solo io la macchia, non lo so. Comunque, ok, qui c'è una serie di libri che potremmo riporre, sembrerebbe un libro d'avventura, lo posizioniamo qui. Ah, noi ci piacciono i libri fantasy, eh? Sì, direi proprio di sì, come al solito andiamo col nostro ordine dal più alto e grande al più basso e piccolo. Cos'è questo? Delle matite colorate. Stavolta non abbiamo il cassetto della scrivania, però abbiamo dei cassetti qui, ma io qui ci metterei i calzini e le mutande. Allora, potremmo metterlo qui intanto. Sì, dai, vediamo. Non so quante cose posso riporre qui prima che si riempia. Questo cos'è? Non lo so. Delle penne, forse, di penarelli. Un altro libro. Sembra, ah, posso dire, ah, eh, non l'avevo visto. Allora, perfetto, posso anche spostarmi in alto e in basso, ok? Un altro libro. Ok, poi, ah, e questo, beh, dai, c'erano tre cose dentro. Avrei potuto riempirlo molto di più, quello scatolone. Andiamo a prendere questo bello giotto, 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 ok? Questo potrebbe riempire quello spazio pure qui perché anche lì c'è un buco tipo, c'è un buco tipo chiodo, però, ecco, no, vediamo un po'. Mettere così, per adesso. No, aspetta. Ehi, sì, ma appiccicami. Vediamo, poi, ecco, si è portato dietro il peluche del maialino. Volendo, lo possiamo solo riporre qui. Vabbè, per adesso lo mettiamo qui. Ma lo spazzolino da denti andrebbe in bagno, infatti. Ok, ok, allora nel metro lo metto qua. Ok, in questa puntata si fa molto più interessante di ciò che pensavo. E un altro, cos'è, dentifricio. Lo mettiamo qua. Ok. Per adesso. Ah, queste statuette famose da Ikea o da Tiger perché le posizionano in modo ambiguo, tipo anche quelle a forma di mano che gli fanno fare il dito medio. Sì, simpatici, eh. Tanto questo stereo, che ce l'ho anch'io, ce l'ho ancora fatto così da qualche parte, questo in garage, ce l'avevo esattamente fatto così perché qui leggeva i cd, c'era la radio, oppure qui sopra leggeva i cd musicali, ho dei pantaloni, ma io tipo questa crucia, ah, perfetto. Allora, ma questi pantaloni vanno per forza appoggiati, non si possono mettere nelle cruce, 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 cruce. Vabbè, li metteremo piegati così bene qui. Una scarpacombers. Ok, allora, possiamo metterla qua intanto. Cos'è? Porta qualcosa? La mettiamo qua intanto. L'altra scarpa, molto bene, la mettiamo qua. Ah, un stivaletto. Dottor Martins. Dottor Martins. E l'altro Dottor Martins dov'è? Abbiamo anche le scarpe sbagliate, molto bene. Prendiamo questo. Oh, il computer, finalmente. Ah, adesso sono soddisfatta. C'è pure il bike heroin, non so. Ah, c'era solo il computer. Beh, effettivamente pesa. Belli questi dettagli viola. Nei tastini di accensione. Ok, abbiamo uno, due, tre, quattro ancora da unboxare. Reggiseno, reggipuppe. Quindi siamo delle ragazze? Ah, ok. Oh, non lo so. Potremmo anche non esserlo. Allora, reggiseno, io direi che li mettiamo qua. Perfetto. Un altro reggiseno. Un altro reggiseno. Bello nero. Il color carne non mi piace tanto. E il poster qua potevo coprire meglio. Aspetta, aspetta, molto meglio. No, aspetta, così, molto meglio. Potremmo mettere quest'altro qui. Che anche qua c'è una macchina, ma non riesco a... Perché c'è questo scatolone, non riesco... Lo mettiamo tanto così. Questa la mettiamo fuori. Ecco, perfetto. Mi piace. E poi mettiamo bene i reggiseni. Non mi fa mettere... No. Proprio così. E li avrei messi nella realtà un po' più vicini, ma... Vabbè, insomma, qua ci mettiamo i calzini, le mutande. Vediamo in base a come il gioco ce li piega. Il nostro Game Boy, che resta comunque un gioco che ci siamo portati dietro. Oltre al nostro peluche del... Che è, diciamo, il logo, o anche no, ma... C'è quel... Questo peluche qua, maialino, c'è anche... All'inizio del gioco qua, anche se tu l'hai visto sulla prima puntata... Ah, anche questa c'è sia un portatino dietro, ci sta qua? No. Però ci sta qua. Qua pure. Ok, mettiamo qua. Per adesso, ovviamente. Cos'è? Un libro? Donnie d'Arco? Un film? Non lo so. Mettiamolo qua, tra i libri. Intanto, la nostra gomma, che ci serve per disegnare, la mettiamo per disegnare, per cancellare, intendo. Però, diciamo che sta in zona matite, penne, pastelli e colori a matita. Allora, sulla scrivania, ecco, non c'è un cazzetto. Quindi, faremo così. Poi, una... Portadocumenti, lo schiappiamo in alto, insieme a questi che cosa sono, non ho capito. Decidivo se... Potrebbe. Potrebbero essere. Oh, mutande, oh, calzini, credo, mutande. Mettiamo insieme i reggiseni. No, non volevo prendere, io non volevo chiedere il cassetto. Altre mutande. A pallottolate. Altre mutande a pallottolate. Perfetto, sono solo tre. Un tostapane. Forse il tostapane non va qui. Forse va in cucina. Ok. Lo metterò qua, proprio davanti alla presa. Posso spostarlo, secondo te? Lo so. Qua. Potremmo metterlo qua, anche sopra il microonde. Tanto lo mettiamo lì, poi vediamo. Io il tostapane non lo tengo mai fuori. Lo tiro fuori dal cassetto qua in basso. Ne ho due perché non ho la lavastoviglie. Ho appunto dei cassetti e il tostapane. Di solito lo ripongo lì dentro e poi, quando ho bisogno di usarlo, lo metto qui sul bambone. Però, normalmente, quindi, dalla mia esperienza, metterei qui insieme al microonde. Ok. Oh no. Le mutande. Non pensavo fossero così. Giustamente dovrebbero essere così tante, ma se proprio le spostiamo, ecco. Giustamente. Ok. Ah, il nostro cubo di rubrica, lo mettiamo qui. Un'altra mutanda. Che bei colori comunque. Però, aspetta, allora. Ma, questo non è una mutanda perché non è appallottolata come le... Che siano calzini quelli appallottolati così. Perché vedi che questo è piegato così. Invece questo è appallottolato in modo diverso. Quindi sono cose diverse queste, secondo me. Uno è un calzino, uno è una mutanda, forse. Dance. Dance. Mettiamo qua dance. La t-shirt. Perché si può mettere... Ah, c'è anche la possibilità di metterla piegata. Qua io metterei dei vestiti più che altro, se ci sono. Una scimmia. È George. Curioso com'è George. Forse. E' quella questa. Però, qua ce ne stanno tre, quindi ho anche voluto. Niente. Ma facciamo così, intanto. Qua ce ne starebbe un altro. Sì. Eh, è molto meglio così. Ah, ah. Oh no, oh no, questi buchi non mi piangono. Vabbè. Poi... Oh, benissimo. Lo scrivano io, ci sta. Ecco. Questi sono come questo. Cosa potrebbero essere? Film? Allora non vanno altri libri, allora. Potrebbero essere CD, forse. Ok, più bello quello da vedere, del viola e nero. Ok. Il mouse, giustamente. In realtà manca anche la tastiera, quindi dopo queste cose dovrò spostarle, perché... Eh, se c'è la tastiera dovrebbe stare qua. In realtà io quando avevo questa tipologia di computer, avevo qui una specie di cassetto, dove andava messa la tastiera, che poi appunto si... si apriva, si chiudeva, ma se... Ah, se dovevi usarlo o no. Questo cos'è? Boh, non lo so. Boh, mettiamolo qua, intanto. Ah, il tappetino per il mouse, forse, aspetta, no. Se mi fa mettere il mouse sopra... Eh, sì, allora, il tappetino per il mouse. Però mi piace. Ecco, così. Sì, il tappetino... Questo possiamo metterlo qui sopra. No, no, è matto bene. Mettiamolo qua, perché mi dà fastidio che non ho spazio per usare il mio mouse. Una volta c'era il tappetino per il mouse, perché il mouse aveva una pallina sotto e se non riuscivi a farla girare il mouse non funzionava, insomma. E quindi aveva bisogno del tappetino per il mouse. Ancora il nostro amico Grighello. Oh, schiaffiamolo qua per adesso. Poi si vedrà. Un'agenda. Un'agenda. L'agenda, dovremmo metterla... Qui non mi fa mettere più altro. Intanto lo mettiamo qua, poi vediamo. L'agenda dovrebbe stare esatto qui. Però non so dove mettere altre cose. Se no... Premo anche mettere qua. Non me lo fa a mettere... Ecco, così. Ecco. Ma questo si può... Eccolo qua, perfetto. Ottimo. Questa è l'agenda da mettere qui un po' sotto mano, perché... Comunque... Magari sono al computer e ho bisogno di guardare la mia agenda. Se voglio scrivere qualcosa ho le mie penne qui. Così volendo, qui c'è lo spazio per la tastiera. Questo si può anche un po' più in qua, però... Ecco, bello, così mi piace. Così c'è spazio per la tastiera. Sì, c'è. Ma in teoria sì, perché altrimenti non... Manca un pezzo. Allora... Questo qui... Dobbiamo trovargli un altro posto, perché... Qui voglio mettere i libri. Ok. Magari il pupazzetto lo mettiamo qua. Così qua c'è lo spazio per queste cose. Anche così non sarebbe male. E vabbè, intanto lasciamolo lì. Un altro libro. Non mi piace che stiano due blu vicini, però... Quello verde è... Andiamo. Eh, possiamo fare così. Quello verde era più basso, quindi... Ok. Ultimi due scatoloni. Ma la tenda qua si può chiudere volendo? No? Vabbè. Pensavo di sì. Ok. Ah, ma qui c'è un'altra... Eh, allora non lo sapevo. Vabbè. La borsa. La borsa. La borsa. La borsa. La metterei nell'armadio. Quindi... Sì. Ce l'avevo anche questa borsa, tipo... Tascapani. Andavo su di moda. E in realtà io le uso ancora. Perché... Mi trovo bene. Intanto la mettiamo lì. Cos'è? Il lettore MP3. Che effettivamente dopo dei cd sono usciti i lettori MP3. Però in realtà... Manca il lettore per cd. C'era il lettore per cd portatile. Che praticamente io me lo portavo... me lo portavo in corriera quando andavo a scuola e ogni buca saltava. Facceva troppo... Saltava. Cioè vuol dire che... E' come se laggasse il cd. E quindi non andava per un tot e dopo ripartiva. Non andava per un tot e dopo ripartiva. E quindi... E' bestemmie. Ok. Lo mettiamo qua intanto. Possiamo il burro sopra il computer. E' bestemmie. Una camicia. Potremmo metterla qui oppure... Metterla qui piegata bene. Perché non so cosa posso appendere. Quanti vestiti devo appendere. Tanto li li pieghiamo. Poi dopo vediamo. Visto che i pantaloni qui non li fa mettere. E questa cosa no. Io la mettiamo qui. Perché... Lì mi piace mettere un maglino rosa. Come avrei notato. Perché ci ha già messo tre cose. Bagliattina. Action figure di qualcosa che non conosciamo. Però... Appunto... Non sappiamo quanti altri libri troveremo. Altri jeans. Il pallone. Cacchiarolo. Mettiamo il pallone. Ah... Il pallone. Sporco. Lo mettiamo qua. Non sul letto magari. Poi... Un altro... Un quaderno. Mettiamolo qua intanto. Un'altra t-shirt. Ah... Guarda qui avevamo un cassetto. Eh... Non lo sapevo. Potremmo mettere... Anche l'agenda volendo. Qua riempie tutto. Potremmo mettere... Ci stanno queste cose? No. Nope. Nope. Vabbè intanto lasciamo così. Poi vediamo. Qua vedi c'è un'altra cosa che nasconde. Potremmo mettere lo stereo qua. Perché c'è la presa per ascoltarlo. Vabbè. Intanto apriamo l'ultimo scatolone. E poi dopo vediamo come sistemare le cose. Perché adesso le sto riponendo senza sapere che cosa c'è dopo. Che ci aspetta. La felpa. Sì. Questa magari la vendiamo. Cos'è? Questo non so cosa sia. Una cassa? No. Non lo so. Allora le cose che non sappiamo le schiaffiamo tutte qui in alto nell'armadio. di Sailor Moon questa. Boh. Non lo so. Sembra tanto fa tanto. Sailor Moon ne ricorda anche lo zainetto che abbiamo visto nella puntata precedente. Altra t-shirt. Sì. Non avrei potuto appendere tutte queste. Questo volendo si può appendere perché è caruccio. L'altro è bello. Lo mettiamo qua. Ok. Il pigiama. Il pigiama. Eh sì. No. Il pigiama lo mettiamo. Il pigiama. Il pigiama lo mettiamo insieme. Lo mettiamo qua. Ok. Lo potremmo. No. Lo potremmo. Si può mettere sotto. Eh. Visto. Lo mettiamo qui sotto al cuscino. Ti so. Alcune persone lo fanno. Mettono il pigiama sotto al cuscino così quando devono andare a letto lo trovano lì insomma. No. Non te l'aspettavi. Sembra anche questo un pigiama però. Sì. Allora no. Mettiamo lì insieme. Ci nasconderemo dell'altro lì sotto. No. Ecco le altre muciange. Allora aspetta. Le nostre muciange. No ma sono diverse. Aspetta così. Ci stanno qua. Ci stanno qua. Le nostre muciange. Le mettiamo qua. Ok. Mi piace fare... Eh lo so. Sono dei problemi mentali. Oh no. No 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 no. Allora io ho questi. abbiamo molto seguito. Ecco lì. Ecco lì là. Ecco lì. Adesso lo so. è peggio. E adesso... un altro libro che qui non ci starà neanche perché ho messo l'attore e ferli di denti questa via ok magari l'action è un'altra l'aria diciamo che con il zonboy ci giochiamo ancora e questo lo facciamo mettere qua anche se non mi piace tanto quindi direi che anche con il cubo ci giochiamo ancora ok bene e anzi aspetta ok ah ecco il portafoto le foto potremmo tenere qui dentro un altro t-shirt 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 finito ok ok allora mi allora aspetta lo stella potremmo mettere come brutto non mi piace forse negli altri stanze troveremo qualcos'altro quindi c'è spazio anche qui volendo potremmo mettere il pallone mi lampeggia sia il bagno che la cucina questo video si conclude qua non faccio la foto perché potremmo trovare degli oggetti in cucina o in bagno che vanno in questa stanza quindi non è ancora terminata anche come sono riposti i vestiti potrebbe cambiare poi o anche questi oggetti che tipo cos'è questo non si sa e spero che comunque questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura